... Numero 6, questa Clio Light Fabrizio Martinis in coppia con Monica Tratt sono tre i protagonisti annunciati anche... ... Ora com'è che viene fuori? Fuori un'altra volta. Quattro siamo. Devo fare tutte le foto a tutti? Quattro siamo. 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 l'ultimo iscritto l'ultimo iscritto l'ultimo iscritto l'ultimo iscritto l'ultimo iscritto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.